ho 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 Sentite il mio inglese ballone. Oh, Loki, amico mio! Grande, Loki! Ma che gioco è? Spill Force Reforced 3, amico mio! È un gioco fighissimo, tipo... È uscito ieri, in Day One, però è uscito già su PC. Questa è la versione remastered figa per PlayStation 5. È per Series X. È un gioco tipo presente, adesso te lo faccio vedere, tipo... Ciao Giulia, amica mia, ero dal tuo Lord prima. Ciao amici di Twitch! È un gioco tipo... Age of Empires, per dire, è una roba del genere, di battaglie, quelli della Siga, roba del genere. Ho voluto portare un gioco nuovo e domani portiamo Farming Simulator. Eh, Loki, se vuoi venire domani, Farming Simulator nel campo di Marco Drums Games. Ok? Quindi se vuoi venire, Loki, domani sera... Domani sera ti sei invitato nel campo di Marco Drums Games. Oh, grande, Giulie! Vi aspetto subito! Anch'io, anch'io! Sto scrivendo il Facebook, un po' di pubblicità, pubblicità, legalità, fraternità, alzano se va bene, stu giocchi. Allora, non lo so se va bene, stu giocchi. Ah, grazie, Bonek. Oh, Jennifer Design, grazie mille, Jennifer! Grazie, grazie, grazie del follower, amica mia. Ok, allora. Andiamo a vedere un po' com'è Arena, ci sono robe sopra che non vedo, va bene, niente, dai, facciamo la campagna. Solitaria, collaborativa, mercenari, bella, Stream Elements, Sound Alert, ciao amici! Uh, compra ora, c'è già un sacco di roba da comprare. Vabbè, niente, vediamo, normale, classico mago, modalità storia, facciamo un normale, dai, così ci massacra per bene. Perché quando non si conoscono i giochi, ragazzi, non si sa mai. Grazie, Jennifer, grazie Bonek e grazie Fra Festa, grazie ragazzi per aver messo un bel follower al Marco Drums. Uè, Batman, grande, è finita la scuola, sei arrivato, amico mio, grande. Allora, tu sei nella sentenza... questo è un gioco un po' particolare, Batman, eh? Uè, Fabrizio, Warzone, Fabrizio. Allora, Warzone, Fabrizio, doveva essere domani, però è saltata col mitico Morris, e allora ho deciso di portare domani sera a farmi il simulator, quello nuovo, 2022, mi sembra, 2021, non mi ricordo più come si chiama. E comunque Warzone la facciamo, eh? Adesso vediamo se la faccio venerdì o la facciamo sabato con Warzone. Grazie a streamerle, ma... Uh, non so, generale, ma io vedo nessuno... Fabrizio, ok, grande, Fabrizio, dai, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto in tutte le live, eh? Portiamo un sacco di giochi adesso, non... E poi bisogna portare anche il Gran Turismo, perché bisogna comprare le macchine, bisogna comprare un sacco di roba. Le cose strane, missione, sono tante, non trovi il manufatto che dovremmo recuperare, perché di tutto, bla bla bla. Probabilmente il Lord Marshal, oggi ho fatto Baddoria e mi stavo dimenticando, non è? Sono ricordato. Oh, grande, Batman! Dobbiamo fare altre, altre serate insieme, eh? Ah, quel gioco fichissimo di... 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 di Robby, Batman. Allora. Ah, ok. Ok. Come si fa? Allora, mossa d'attacco. Giulie! Controllo, invia comando. Triangolo. Ok. Ah, si può anche ingrandire, bella! Allora, vediamo un attimo. Questi sono giochi... No, Giulie nel senso ci... ciao, Giulie! Incontra... Frederick. Oh, andiamo qua. Oh! Recluta, rianima. Io posso Rocket for Nice, giocate. Assolutamente sì. Ma non abbiamo mica fatto... Ascolta, Batman! Tirati giù quello lì gratuito, che è una figata... Allora, L1. Eh, quello lì... Che cos'è che è? Guarda che c'è un coso. Ah, è così. Oh, pietra. Allora, mossa d'attacco. Quello Rudder Champions. Oh! Mi stanno attaccando, raga! Dai che sono dei rani schifosi! Attaccate, attaccate! Dai! Dai, dai, dai! Oh, prendete qua! Sì, sì, è bello, è bello, è bello! Uh, prendi tutto! Ah, vedi? Allora, scheda corrispondenza. Equipaggio è un oggetto. Abbiamo già... Ma è per play? Assolutamente sì, Batman, è gratuito. Roller Champions. È quel gioco che ho fatto... È GT6. Gran Turismo 6. No, no, no. Roller Champions è quello che ho fatto insieme... Sì, sì, è gratis, è gratis. Roller Champion. Champion. È praticamente tu sei una squadra di tre con i roller, con i pattini. Bisogna fare il giro del circuito, ma gli altri ti prendono, ti buttano giù, ti rubano la palla. E una volta che hai fatto un giro completo dell'autodromo, si apre la porta e bisogna tipo fare gol. È bellissimo, è divertentissimo. Lo sto facendo scaricare a tutti, amico mio. E quindi scaricalo anche tu, che è gratuito. Non è neanche tanti giga, sinceramente. Quindi puoi tranquillamente tirartelo giù. Ok. E ci giochiamo, ci giochiamo. Così è anche un gioco... Ah, ok. Ok, infatti, Gran Turismo 6, Gran Tift Auto 6. Non so che GT 6 intendevi. La cara sta a camminare, la cara sì. Ma quanti giga? Una decina. Uuuuh! Ci sono... Oh, ma... Oh, ma dai, attaccate o no? Ma sei fuori? Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, sono tante. Muoio. Ai, 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 via, 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 via. Scappate, scappate, scappate. Muoversi, muoversi, muoversi anche, muoversi, via. Ah, queste mi seguono. Ai, 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 via, 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 via. Oh, allora, basta. Ah. Allora, qui non posso fare nulla. Allora, vediamo un attimo. Questo che cos'era, scusami? Bottino. E dove lo, dove lo metto sta conchiglia? Cosa ho fatto? Non so che cosa ho fatto. No, no, riprendi lo. Riprendi stugge. Allora, prendi bottino. Dove la metto la conchiglia? Vabbè, non mi serve a nulla. Ma forse posso metterla lui? No, niente. Vabbè. Non possiamo metterla conchiglia. Allora, dove, dove sto incontra... Probabilmente, voi sapete, Frederick è qua, è qua, guarda, raga. E' di qui. Cominciamo a andare qua. Questi sono i giochi un po' punta e clicca, eh. Oh, 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 ragnozzi. Ragazzi, ragazzi, dai, forza, forza. Seccatevi, secca sto ragno. Secca sto ragno. Oh, c'è anche tutto il veleno. Che schifo. Oh, c'è quello gigante. Aspetta, dai, dai, dai. Dai, che gigantesco quello lì. Dai, raga, forza. E' ammazzatura, ragno. Cioè, già si parte nella missione base, ragazzi. E qui ci stanno massacrando già i ragni, eh. Incredibile, incredibile. E allora? Prendiamo questo. No, ma dove te ne vai? Ma dove sta andando? Uh, l'orso. Ma dai, ma vai via. Via, che c'è un orso. Ma lo vedi che ti ammazza l'orso? Ma sto scemo. Che roba, ragazzi. C'è anche il personaggio che non capisce che un orso ci sega. Allora, vediamo un attimo. Dovrebbe essere da queste parti, con il ragazzo là, eh. Eh, ma qui non si può andare. Eh, ma io per andare di qui c'è l'orso. Ma, non riuscite a scappare via dall'orso? No, niente. Niente da fare. Via, 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 via. Che arriva l'orso, via. Oh, vai, vai, vai. Vai che abbiamo fregato l'orso. Uh, cosa c'è qua? Oh, prendi tutto. Via, 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 via. Che ci sega, via, che ci sega l'orso. Dai, seguiamo l'orso. Hai avuto tutto un oggetto consumabile. Ok, vai tra. Dai, 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 che ammazza l'orso. Dai, no, 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 che fa l'urlo. Mamma mia. Dai, dai, ragazzi, che riusciamo a segare. Dai, 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 dai. Dai, che c'è un po' di carne qua. Dai, bravissimi. Allora, ragazzi, siamo riusciti a... Marco, a user, io vado a giocare con i miei amici, a scaricare i loro champion. Non mi piacciono i giochi così da cliccare. Ok, vai tranquillo, boss. Ok. Sì, che cosa bisogna fare? Allora, bisogna trovare il modo per andare giù. Io adoro questi giochi, proprio è una cosa... Ah, cacchio. Dobbiamo andare da lì, da loro. Questo che cos'è? E cosa fa? Eh, il problema è che bisogna andare qua adesso. Il problema è che bisogna andare giù di qua. È venerdì che domani non posso. Ah, venerdì che domani non posso. Ok, Batman, dai. Va bene, va bene. Stami bene, amico mio. Allora, rompi gruppo. No. Livello controllo. Gruppo di controllo. Abilità. Ok. Allora, diciamo che... Qui. Ok. L'ho beccato o...? Oi, 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 mi ha seccato. No, no, via, 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 via. Ah, scappa... 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 Ciao, mitico Batman! Ciao, amico mio! E mo' questo come lo rianimo? È morto! Eh, rianima eroe. Forse torna. Ah, è tornato. Allora, ci potrebbe anche fare col mouse, secondo me, questo qua, eh? Perché tanto è un punta e clicca. Il vero problema... Eh? È che io come li ammazzo, queste qua. Proviamo a vedere se schipano. Cari. Le schipiamo, le schipiamo. Guarda, è pieno di meduse. Oh, mio Dio! Dai, via, via, via. Oh, la, la, oh, la, la, ma quante ce n'è? Via, via! Oh! E come faccio io ad arrivare? Dai, dai, corri, corri, corri! Cacchiarola! Io dovrei incontr... Oh, il drago c'è anche! E ora, ma come faccio io ad arrivare? Oh, no, il drago! Viglia! Ma sei impazzito? Ma qua c'è un drago che sputa fuoco? Dai, dai, vai! No, non ti fermare! Prendi tutto! Viglia, ragazzi! Qui me lo rissega ancora! Caspita, non si può andare giù di qua! Non si può andare giù di qua! Martitto! Oh, ma questo drago è pianta! Sono già schipato! Dove si sparisce, drago? Tre ce n'è qui! Via, via, che non sono venuto qua per voi! Uno me l'ha ammazzato! Eh, lo so che non è più in vita, il mio amico! Dai, ma guarda che balordi che vi seguono! Ah, è tosto, è tosto, eh! Dai, via! Dai, ahia! E' tosto, Giulio, è tosto, Giulio! Per fortuna che rianimano il mio tipo, lì! Oh, grande Lord! Penso che questo gioco qua, Lord, piace un botto, eh! Allora, forse... Secondo me bisogna andare di qua, allora! Eh, a sto punto... Oh, ragni, ragni! Ah, ragni, ragnozzi, ragnozzi! Ok, sì, ma fa poco niente questa roba qua! Oh, ha congelato! Ah, no! L'ha paralizzati, ci ha paralizzati con... Stavo dicendo che questo è il tipo di gioco che piace! Esatto, esatto! Come vedi, Giulio non piace a tutti, infatti vedi l'amico... Ma dove va? Ma perché vai lì? Ma perché te ne vai da solo? Ma perché vai da solo che muori? Ciao, amici! Spielbreaker 3! Diciamo che domani sera volevo fare una live... Oh, caspita, è morto! Dai! No, dai, sei serio? Contro tra nienti! Dai, che devo scappare! Oh, caspita, che devo scappare, ragazzi! Ah, ho visto... Attaque! Non dirvi che muori, non dirvi che muori! Pfff... Per fortuna è ritornato! Questo è strano... General... Per fortuna ritornano, è una cosa molto bella di questo gioco, eh! Comunque ritornano... Poi, chiaramente, sono balordi perché si spostano da soli... Andare ad attaccare, quindi... Poi, come prima, è rimasto il tipo senza l'aiuto del rinforzo da dietro, eh, eh! Poi, cazzo... La pelle del drone diventa più grande, è il gelino di tarantola! Sì, 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 anche secondo me è il gelino di tarantola! Non è buono, è il gelino di tarantola! Eccola qua, eccola qua! Dai, 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 segala! Segala, segala tarantola che è cattiva! Muoversi! Bravissimi! Così si fa... Oh, così mi piace quando... Sì, sì, è bello! E allora, il gioco è molto bello! Adesso non so dirti se poi... Piace agli amici di Twitch, questo... Prendi tutto! Prendi tutto! Prendi tutto! Prendi tutto! Non so se piace! Se poi non piace... Lo porterò magari su YouTube... Facendo dei video... E... Vediamo un po'... Posso metterla... Equipaggiamo... Slot 2... Si, figo! Questo non posso equipaggiarlo... Questo non posso equipaggiarlo... Questo non posso... Pozione... Ma no! Ma sei serio! Marco, ma comunque sembra DD... DD... DD sarebbe... Derby Distraction... Eh... DD Day by Daylight... No! Boh! Sì, figo! DD... D e D... Boh! Che cos'è DD? Che cos'è DD? Oh! Ma chi erano? Ma chi erano? Chi erano quelli lì? Due putrefatti? Questi sono rebeli... E loro erano tornati fuori... Oppure dei non morti... Ah, ecco chi è! Ok! Sotto dell'arma... Ok! Sprezziamo i cadaveri... Un cadavere... Riconosci in vago l'ucicchia... Che gli resta negli occhi... Negromanzia! Varebbe una lettera bruciata... Ah, ok! Sì sì, ma io i giochi li conosco... Giulie... Ma non... D e D in questo momento non mi dice nulla... Cioè, non mi viene in mente il titolo... Uuuuh! C'è uno grosso! Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai... Dai, 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 dai... Madonna questo è grosso! Ti ha segato la raga! Bravissimi! E non ho lasciato nulla! Uuuh! La Lucas! Amico mio! Come stai? Grandissimo! Stasera porto un gioco nuovo, amico mio! Spill Break 3! Questi giochi punta e clicca che a me piacciono davvero un botto! E domani, grandissimo Lucas, porto Farming Simulator! Voglio provare un po' a fare dei giochi anche un po' diversi! Ah, Danger and Dragon! Ok, perfetto! Non mi veniva in mente! Oh, bisogna ammazzare i morti! C'è un altro che volevo comprare, Giulie, che costa 3 euro, si chiama... Oh, ma... allora? Mi ammazzate o no? Lost... Dragon Dogma! Dragon... Dogma... Sì, 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 comunque bellissimo Payday, eh! Compralo, compro a Lucas! Poi a 5 euro tutti i DLC è praticamente regalato! 6 euro quello che è! Ci sono un sacco di sconti, ragazzi, su... Drago Dogma! Allora... È conquistato una seconda pietra! Puoi creare portali, ok! Ok... Ah... Figo! Drago Dogma! Bello, bello, Drago Dogma! Oh, oh, ragazzi! Dovete combattere, però, quando trovate qualcuno in giro, eh! Adesso non è che ve lo devo dire di tutte le volte! Ok... Ah... Dai, 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 dai! Tanto molti morti in un posto! Questo non è normale! Ah... Troppi non morti in un unico posto! Ha ragione, ha ragione, però, eh! C'è un po' troppa gente morta! Ah, lo conosce? Sì, è vecchio, vecchio, vecchio! Lo stanno vendendo a 3 euro! The Lord è bello? Secondo te, eh? Dragon Dogma? Credo che sia anche in italiano! 3 euro lo stanno vendendo sullo store! Quindi è un po' vecchiotto, però... Non avendolo giocato... Credo che sia una bella... Alternativa anche a quello! Poi, ragazzi, ricordateli... C'è solo la PlayStation 4! Sì! Sì, sì, è PlayStation 4! Hai ragione! Ok, fico! Volevo solo capire se a livello grafico era bello! Dai, dai, girati dietro e dagli una bella legnata! Sì, bravo, bravi! Il problema, il problemino... È che... Ah no, è il problemino che devo andare di qua! sì 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 volevo proprio prenderlo per quello allora diciamo che la la tipologia di gioco che si fa cotta molto per chi viene in live sto vedendo che comunque allora eccolo qua beh la lia un centesimo non temuto la guardia nel lupo siete voi il mio contatto con la corona mi ha parlato di un'armatura un'armatura che è una confine la l'armatura ritorneremo a una posizione adatta per la campagna mi piace di spostare appunto l'incontro concordato farmi un'idea più cara della situazione mi dispiace ci ho modificato i vostri piano perché siamo qui di presidio perché siamo qui di presidio non ci ha fornito specifiche sulla missione adesso ha dato tutti i dettagli quindi perché siamo qui qual è la storia del manufatto no niente secondo le nostre fonti i ribelli sono in giungla da una settimana non hanno trovato il manufatto una anomalia magica wow i ribelli stanno facendo fatica a tenere sotto controllo beh questo è il modo dunque dobbiamo affrontare prima di tutto i non morti dobbiamo trovare Balthazar e sappiamo su Balthazar Lord Maresciallo non vi ha detto di lui? no ma giacchia bianca ma gli siamo i soldati che attende al confine bene andiamo certo ciao guarda lord bravo 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 il tuo gruppo bravo bravo guarda che è un giochino che piace anche a te ah vedi grande Lucas esatto ma ora che ci sono affrontati sono sicuro che ci si troveremo più oltre non posso aspettare allora questa la possiamo acquistare si l'ho acquistata non solo uno 0 abilità c'è un sacco di roba c'è un sacco di roba un sacco da roba ok andiamo avanti ciao amici e amiche di Twitch grandissimi Spiel Break gioco nuovo gioco particolare in bannicula non fanno messa tipo i giochi fa impazzire ne ho tanti e pochi infiniti ma li adoro esatto esatto lord tra l'altro se ti può interessare questo gioco per pc costa tipo 3 euro 5 euro al massimo proprio questo gioco intendo visto che tu stai streamando da pc dai si 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 perchè questa è una rivizzazione è una rimasterizzazione di quel gioco lì in hd per playstation e ciao Kevin però il gioco è uscito forse un anno due anni fa sulla sull'e2 pc e quindi te lo puoi comprare con 3-4 euro 5 euro adesso non mi ricordo su steam quanto costa si 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 davvero davvero se ti piace la tipologia lord compratelo no ma sei serio ma dai mi ha ammazzato ma non vale proprio niente sto qui dai spara da lontano ma dai sei in caccia amico mio grande dai ma è uno stupido qui bella visto che è il bel giochino sol va che c'è tutta la nuova tipologia di di caschi e livree eh bella Kevin grande Kevin è arrivata la play c'è anche le zanzare in casa completamente ammazzato il mio il mio amico sicuro oh vai a prendere sto robo allora ma perché non prendere sto robo anche l'ordine è arrivato a playstation 5 siiii ah ecco che è arrivato l'altro ciao amico per fortuna è arrivato da l'u di suo allora andiamo di qua bisogna stare molto attenti dove si va perché all'inizio siamo proprio delle pippe e ho notato che ci massacrano come come ridere eh madonna sta zanzara eh si amico mio questo è veramente bello eh veramente bello ho visto un po' di gameplay erano tutti su pc però adesso avendolo fatto ecco come facciamo distruggiamo sta casa no seleziono la casa no ma è la casa del taglia legna bisogna andare qua no hanno detto che è arrivato da soli ma il problema è che deve arrivare il pezzo di ricambio davvero davvero ma sei serio mamma mia ma come il pezzo di ricambio ma cacchio che cazzo dovranno mai fare questa sta roba fa la bandazzara prendi il controllo del vecchio buon posto come faccio a prendere il controllo del vecchio buon posto qui mi stanno massacrando le zanzare madonna no non si allora diciamo che la prima settimana era la prima settimana era anche festa però adesso no e quindi cosa ti hanno detto ancora 3-4 giorni una settimana come faccio a prendere il controllo del villaggio ma no devo andare di qua vado sempre a parte contraria vediamo andiamo qui dove c'è qui oh non morti non morti segateli 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 dai battaglia ravvicinata si 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 vabbè con le ragioni con le ragioni e caspita è vero solo in italia la festa Kevin hai ragione caspita allora è strana sta cosa non lo so non so che cosa dirti amico mio non so proprio che cosa dirti la signora mi ha detto che chiama ma chi è ma chi è da chi l'hai portata dal centro assistenza è lì che ti dicono ti ha detto che domani provano a chiamare loro oh non morti non morti caspita quanti ce n'è eh si si amico mio oh via 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 all'inizio che sono una mezza pipa caspita dai dai ripristina ripristina ah ok è davvero tosto vabbè qui non ha capito come general eh già un po' è già un po' che l'amico Kevin non ha la playstation è già un bel po' e la cosa non va bene ma normalmente ci mettono due settimane proprio però probabilmente avranno avuto dei problemi chi non sa come mai ci stanno mettendo così tanto dai segate dai 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 grandissimi via 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 ah anche il legname ma questi stanno arrivando qua a segarmi e non recuperi salute ok dai recuperiamo salute perché uno è messo veramente male umanoide viventi umanoide viventi sono tutti viventi ho recuperato della legna raga dalla legna che può sempre servire probabilmente per fare qualcosa dai ah 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 si rilassa beh lascia accesa la live perché se vai via tu e lord rimanevo solo io non piace molto sto gioco e il mitico kai vedi anche domani sera rischio veramente forte a a portare il a portare farming simulator sono giochi che purtroppo mi piacciono tantissimo non so neanche perché dice che sono zero si no no recupera da solo è una figata sta qua eh basta che stai fermo un attimo ti sposti un secondino e recupera e questa secondo me è una cosa figa perché perché non devi star lì a romperti le scatole tra le pozioni ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi si dice che non ci sono due da una battaglia però si dice che non ci sono due da alcuni di atto a sud ah allora devo andare a sud è anche bella grande la mappa eh ciao amici e amiche di Twitch grandissimi stasera un gioco particolare nuovo perché è un gioco nuovo uscito si 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 bellissimo eh è bellissimo Giulia e Lord eh dai parla a questo tipo eh ma che cazzo fanno oh parlate col tipo no niente non vogliamo parlare eh vabbè eh vabbè grande Giulia allora lo cacciato rimossa l'attacco il mio comando gruppo controllo ah c'è anche lui adesso no 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 eh sì che c'è il triangolo eh sì che c'è il triangolo come faccio a fargli le cose a lui adesso io dovrei parlare con lui attacca ferma sì sì che sei tu no ma lui non si muove per continuare devi ragionare il suo gruppo di eroi ok 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 e quindi mossa invia gruppo di controllo che è questo ok Marco, le polpette, le polpettine E' una figata Sono una figata quei giochi qua Si rischierà Allora, ma fattene la campagna Quindi dove troviamo il manufatto? Secondo me le fonti personali dovrebbero trovarsi assurdo Tuttavia c'è un piccolo problema Si trova in una tomba Allora la prenderemo Purtroppo non sarà così semplice In tratta di un sepolcro sigillato con la magia Servono tre chiavi Uh, dobbiamo trovare queste chiavi Chi avrebbe chiesto? Ma non lo so, non lo so 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 Beh, questo è specifico Mi sono fai Mi sono fai Mi sono fai Mi sono fai Partita salvata Il mondo è stato svelato un nuovo punto di interesse La reliquia Bello Allora, noi siamo qui Ma chi è che c'è qua? Raga, raga, forza, forza Tutti, tutti attaccare Tutti attaccare, dai Attaccate Dai Attaccate tutti Attaccate tutti Ok Oh C'è disintegrato Madonna Con la pozza Via Via C'è no Ok, adesso la squadra è da quattro eh Vedi che Lord stanno I ragazzi e amici di Twitch sta recuperando La vita Man mano che andiamo avanti Quindi è molto interessante come cosa Eh Se non eri tipo 600 km si poteva anche fare Ah 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 Grazie mamma di Lord Ah 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 Grazie 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 Sarà per un'altra volta sicuramente E io gli gnocchi ne mangio tanti eh Quelli con le patate poi si li fa Con le patate E beh se fosse gli altri comunque se ne fai Ah 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 Quei funghi Quei funghi Allora c'è qualcosa che non cuosa Rivelo spada e scudo Rivelo spada e scudo Ok Applica Ah quindi non avevo applicato a quell'altro La difesa La difesa Obvio Ma Si vede proprio che è Meccanicamente Ma è qui che non ho capito come si fa Cioè quando dovresti andare qui dovrebbe prendere e fare qualcosa di automatico no? Ah infatti vedi Mh eh Eh Seccato bene Sì E' Cercato il tesoro se noi gli facciamo un accampamento qua eh Se no ma vogliamo cercare il tesoro eh Ok Oh Oh Produzione Soldato esploratore corazza d'operaio facciamo un esploratore ok ah ma si possono comunque piaceremo molto eh si amica mia eh si e invece ci vediamo su twitch amica mia e invece ci vediamo su twitch perché siamo distanti molto distanti allora quindi uno è qua secondo me un punto è qui quindi deve far tutto il giro ragazzi qua diciamo non dirmi che c'è passaggio diretto 576 perfetto si avevo visto una roba del genere anche su su cosa se non mi sbaglio su steam lord must be the key guard ready yourselves oh 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 this will be easy ah certo giuli dai allora euro track driver dipende da cosa vuoi io a euro track driver praticamente è in italiano ci sono i tir ok quindi se vuoi giocare con i tir ed è molto bello secondo me invece ti dirò che on the road è prima di tutto inglese non funziona al volante invece con l'altro che mi hai detto prima funziona al volante e e all'inizio sei solo con i camion normali però sono tutte e due bellini ti dico la verità ti dico proprio la verità sono non sono male non sono male tutte e due se vogliamo proprio essere sinceri dai mi ammazzate sto robo dai raga forza dai oh dai e se ammazza sto robo no ok che rianima mi rianima mi rianima uno bravissimo quanto viene scusa tanto per sapere buona 19 sinceramente il prezzo è buono comunque merita secondo me comunque secondo me merita è un bel gioco il più bello di tutti è Aerotrack Simulator che è sul pc però chiaramente non essendo su sulla sulla console c'è poco da fare sulle console quello lì è quello più bello secondo me ma voi dite che ah ma vanno automaticamente a prendere la legna ai nostri amici facciamo due esploratori e tre di questi dai vedi sono taglialegna vanno già direttamente taglialegna che figata no no chi è più taglialegna capanno di caccia eh 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 sì eh sì bello 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 allora quindi 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 bisogna andare qua mi sa ok merceria ho messo ah vedi ok 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 qui perché non c'è nessuno bisogna ripararla questa torre è un mix di gdr turno ed è giocampire sì sì amico mio hai visto che figata veramente bello si è molto bello si è molto bello è molto bello vedo che non sta attirando molti amici probabilmente leggendo il titolo non sono molto entusiasti di entrare però è molto bello è molto bello sinceramente secondo me è molto bello allora mandiamolo qua in esplorazione ok uno va dovrebbe col cavallo andare in un attimo infatti poi te invece ti mandiamo di qua così qui vieni tutto mi fai vedere la strada e poi ci dobbiamo spostare con le truppe oltre che con noi ai 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 qualcuno sta ammazzando il mio cavallo ah c'è proprio una ti conviene scappare amico cacchio che rimbambito allora vediamo un attimo spostiamoli tutti qua more food vuole ma il bello purtroppo ci sia come qua si ho visto lord purtroppo e si anche quello che dice è giusto purtroppo però non ci possiamo fare niente perché perché è così infatti più che altro quando faccio ste cose poi me le gioco su youtube tu calcola che stasera se saremmo entrati 4 o 5 bambini belli bambini brutti bambini che fanno i ruti è sempre così giù lì bimbi belli bimbi brutti bimbi che fanno i ruti ok era quello che volevi sapere andate tutti qui amici se era un film non mi ricordo se era et o o qualcosa del genere sinceramente non me lo ricordo no et c'era il fratello che cantava un'altra canzone che era finissima ma sono tutti su di livello il su di livello eh si effettivamente ci sta però sai non voglio neanche ma non erano questi che non voglio neanche buttare via un sacco di di lavoro fatto su su sull'altro gioco eh ti perbuto per uscire la sua abilità del tuo personaggio ok ok oh oh è luce accerchiata ok perfetto perfetto cioè ah ma ogni personaggio è stata tua no Allora, dai, 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 dai Andiamo ad attaccarli, andiamo ad attaccarli tutti Tu che ci fai qua? Eh, com'è, com'è Vai qui Bisognerà capire anche come fare Come creare le strutture Eccole qua Taglia legna, taglia pietre Capanno di caccia Fattoria Eh Se facciamo una fattoria Non so se ho fatto bene farla qua in mezzo Però l'ho fatta qua Taglia legna La fattoria per rimangiare ci sta Ci sta di brutto Capanno di caccia sarà questo Eh Vediamo Vediamo Come creano Carino, carino Alla Age of Empires C'è uno che Tre che guardano E uno che Minimappa Se le gestisci notifiche Fattoria completata Ah, non ce l'avevo Fattoria Ah, eccolo lì Eccolo lì Bravo, bravo Giulie Vedi che io sapevo che C'era qualcosa Bimbi belli Bimbi brutti Bimbi che fanno i brutti Monster Eco Il cartone animato Ragazzi della Disney Bellissimo Grande Giulie Grande, grande Facciamo anche Molto, molto Cos'è questo Potrebbe essere nostra Uraga Uraga Aia Aia Molto bello E' davvero Molto bello E' davvero molto bello Vedi man mano Che poi ti allontani Ok, era ferro Ma qui è ferro Qui è ferro Se io faccio Tagliapietre Se io faccio tagliapietre qua Va Decide che non è la nostra zona Non si può fare Allora muovendoti Vedi Muovendoti Sale Dai dai Facemi un po' di vita Facci la vita Qui c'è qualcosa Non posso costruire Vabbè andiamo qua che Credo che c'è qualcuno Andiamo qua scusa Magari posso Impossessarmi di un altro villaggio No Understood General Undestude Ha detto Undestude E qui da qualche parte C'è il villaggio Di quello che avevo visto Che mi avevano Oh Dov'è che Ah qui sono Qui 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 Torniamo giù Torniamo giù Ragazzi Tutti 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 Botte Uh Ahia Zanzare Ah vedi che gli da una bella botterella Uh c'è un altro C'è un altro Sta scappando Andiamo a prenderlo Andate tutti a prenderlo Prendetelo Sparateli 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 Allora Eh che caos E forza Qui cosa c'è Le città stanno nel velenozzo Stanno Questo è il templio Maya Secondo me Maya Maya Altare Tempio Tempio Debole Allora vi dico la verità Manna Dai cazzotti Ah E non è coso Quello là bellissimo Di What Spencer Fire no Se non è fire Eh Avemo Non è nulla Mi sa Non è nulla Perché se vediamo bene Dovrei venire qui Lì c'era solo la gente Dovrebbe Dovrebbe essere qui Guarda Oh Cavalli Uh Dai dai Ammazzateli Dai raga E' uno Contro centomila di voi Mori Oh Ok Andiamo tutto Non c'è più nulla No Allora Sconfiggi lo squadrono del deserto Allora Oh 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 Questi Ce ne andiamo a schiacciare Completamente Uh Sono tanti Sono tanti Io dovrei Comunque Mandare Qualcuno Qualcuno Caspita 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 Sono tanti E c'è anche una torre Andiamo a distruggere la torre Ah c'erano due Ah c'erano due nascosti anche La torre la torre Oh Fatela fuori Eh Bravi 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 Oh Oh Questi sono Poveri Contadini Ah oh andiamo a distruggere qui General Dove sta andando Bello La popolazione La popolazione è a maxima capacità Dobbiamo Spare Eh si infatti Poverini Ma segate questa qui che sta costruendo Ma no ma mi hanno massacrato Lasciate di stare Ok allora io andrei a farne altri Ecco vedi E ne farei anche altri se posso Uh 18 Uh 18 è tanta roba eh Dai camminate che vi regenerate un po' Su Dobbiamo andare praticamente qui raga eh Qua Oh 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 Cosa succede? Caspita Ci hanno preso Oh La catapulta Ma no ma sei serio Dai raga muoversi Dai che andiamo tutti a catapulta Che bella la catapulta Eh si distrugge in un attimo Tutti qua dai Allora mentre lo distruggono Noi andiamo a vedere se ce n'è Qualcuno Come una catapulta Come una catapulta Ciao amici E amiche di Twitch Come state ragazzi ragazzi Statevi bene Stasera gioco un nuovo Spielbreaker Un po' di tranquillità Dal solito Gran turismo bellissimo Che porteremo subito Ah addirittura questo era quello che dovevo fare io Ma quindi qua si può Cittadella Fa la cittadella Vediamo un attimo Si Però se lo prende per PC Non possiamo Lo devi prendere per Playstation O se tu mi stavi dicendo Di giocarlo tu e Lord Si assolutamente si Puoi giocarlo in solitaria Come ho fatto io adesso Se no puoi giocarla in Ah ok Quando li fa Mi li manda qua Bella Ok Questo non ho capito Pistelleria Pistelleria Perché vedi che è rosso Devo capire Ma cos'è che c'è scritto? Così per poter conquistare Si deve aver selezionato un eroe Ok eroe Oh madonna Ok Avamposto Come lo faccio All'avamposto Però amico Costruzione Taglia Taglia legna Taglia pietre Capanno Fattoria Stazionamento Alloggiamento Torre Fucino Miniera Fattoria Accademia Perchè Perchè non me lo costruisce Ah invia Gruppi con abilità L1 R1 Minus Selezion Azione Statistica Gestici No Qui è gruppo Qua è Attività Muovi Conquista settore Forse è così Conquista settore Potevano spiegarlo Però Si e dopo me lo dici Ok Stazione di vedetta Si possiamo Ok Ciao more Ciao Oh Allora Qui intanto Vanno a costruire Allora C'è uno Me ne hai fatto uno Di soldato Ok Dai Intanto si sta curando Uno Uno me ne ha fatto Proprio Grazie Che cosa che manca Ma come mai Scusami Non abbiamo Abbastanza gente Oh cacchio Dai Andiamo Oh ma va che roba Devo costruire una No 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 Sono terribili eh Sono proprio terribili Ma che roba Ma che cavallo qua Dai Sono terribili Cacchio Un'altra catapulta Come la catapulta Ma quante ne fanno Di catapulte Ma quante catapulte Ah no Dobbiamo andare a massacrarli Questi qua Stanno rompendo Stanno rompendo Stanno rompendo Stanno rompendo Andiamo Oh eccoli qui Eccoli qua Massacriamo Massacriamo La casa Non è per niente Ragazzi Non dovete Prendervela Eh E che voi Continuate a scassare Le cosiddette Dai tutti su uno Tutti su qui No Eccoli Perché andatela Qui 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 Non andate da soli Ognuno becca Quello che vuole Questo sarà facile Certo General I need healing Quick For the queen Aspita Dov'è Frederick Forza raga Forza raga Frederick Si vede una mano Raga Tutti sulla Cava Eh Prima La cosa più Importante No La cosa più Importante E' ammazzare Quelli che ci Segano Vai Forza Forza Oh Ok Tutti qui Adesso Bravissimi Non si rifà La 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 vita Ciao Ryan Amico mio Stasera è un gioco un po' Particolare Amico Stasera è un gioco un po' Particolare Amico mio Puoi portare i A dei tuoi soldati In modo che Giogano Solo i tuoi ordini Forse si può anche fare così Sinceramente Non saprei dirtelo Come funziona Praticamente tu Comandi Quattro eroi Spillforce 3 Si chiama E si va A massacrare Gli altri Diciamo Cacchio Guarda che roba Tu comandi tutti Monna Quattro ero Il problema è che adesso Siamo un po' A corto di vita E loro Stanno facendo le stupidate Vedi Qua stanno Vieni qui Andate tutti qua Ok Ah via 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 Scappiamo 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 Dove sono i dottori Per curare la vita Allora Infatti Allora la vita Si cura Andando Vedi che pian pianino Scappando Si cura un po' la vita Però ho fatto un po' Un casino Perché Me ne hanno massacrati Un bel po' Allora adesso siamo rimasti Solo noi Il 4 contro 1 Esatto Potete anche Segarlo Dai Dai su Ma sono in due Sono Allora è bello tosto Già dall'inizio Non è Non è che perdona Tantissimo Questo che cosa fa Non ho capito Che cosa fa l'altare Dorme L'altare dorme Boh Allora Gli esploditori mercenari Secondo me Qua c'è C'è qualcosa C'è qualcosa Ecco loro Continua ad arrivarmi Da qua Eccolo qua E te pareva Oh ma Sono terribili Eh Oh la la Guarda Guarda come attaccano Va come attaccano Allora Bisogna costruire Una Torre Torre di guardia Dai Ok Mi resta uno Legge d'arri Ma ben due Di queste Costano 20 milioni Quindi Ah Anche tu Anch'io Mi hanno massacrato A me Credo 15 macchine In tutto Credo Allora Domani sera Ryan ti aspetta Che facciamo Insieme a Sharder Farming Simulator Portiamo Un gioco nuovo E Niente Stiamo così Un po' tranquilli Domani sera Invece Poi Madonna Ma è un continuo Ma quanti ne mandano Cioè Ma dai Aspetta Fammi sicurare Tipo contadino Trattore Tandientale Che va a comandare Assolutamente Si Assolutamente Quello Assolutamente Quello Mico mio Madonna Che roba Cioè Continuano a Io non Connetto Con Sì Sì È terribile Raga È terribile Perché Non mi Fanno Fare Nulla Io prima Avevo selezionato Dove dove Dovano mandarmi La roba Ok E praticamente Farmi il Simulator Domani Andiamo A A A farci una Bella Simulator Poi Venerdì Ci vediamo Con Gran Turismo Io Probabilmente Un paio di macchine Che sono leggendarie Me le sono già comprate Sinceramente Volevo comprarle in live Ma purtroppo Vedi Allora io devo andare Con un eroe Che poi non sono capito Vedete Continuano ad arrivare Continuano ad arrivare Continuano ad arrivare Dove sono i miei eroi Adesso Ma dove li ho abbandonati Gli eroi Dove sono i miei eroi Oggi è uscita L'essere 300 copie Da 50 E quello l'ho presa Quello l'ho presa Amico mio Dove dove ho messo I miei soldati Scusa Dove sono Voglio persi Ma poi perché vanno Perché continuate Andando Ma perché poi Mi stanno attaccando Con la catapulta Cioè raga È davvero Assurdo Cioè Io poi vi dico Di venire qui Cioè perché Perché poi andate Di là È la tua base Ho capito Ragazzi Ma dov'è che ho lasciato I miei eroi Non trovo più Gli eroi Raga Quindi sì La Mercedes L'ho comprata Stasera Adesso devo comprare La Miura Io non so Dove sono Gli eroi Ragazzi Serio Mi stanno attaccando Ma dai Cioè Incredibile Raga Incredibile Incredibile Mi continuano Attaccare Facciamo un'altra cosa Che così Quando arrivano qua Produzione di cibo Produzione di alberi La nostra popolazione È a maxima capacità Dobbiamo Spare Il problema è che Non so dove sono I miei eroi Cioè Sono tutti morti Ho avuto Questa bella cosa Di 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 farmi ammazzare Tutti gli eroi Cioè Sta bella cosa Di ammazzarmi Tutti gli eroi E io come Come lo finisco La missione Se non ho Neanche un eroe Ma scusami Ma dove sono Gli eroi Eh Puoi metterlo Qui o Caspita Ok Questa che cosa fa Ok Questa che cosa fa Chiave di missione Questo è un altro Questa che cos'è Termo Oggetto di missione Più che altro È Raga È tosto È Veramente tosto Non capisco Dove sono andati Finire i miei eroi Tutti i morti Nel senso Ma qui Mo'è È una battaglia Senza fine Nel senso Che fa Continuano Continuano Guarda va 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 Dai Ma si sono messi Di qua Ma che intelligente Devo dire Devo dire Siamo messi Dell'angolino Si è messi A mataclarmi Siamo Siamo Attaccati Ok 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 Dai Ma quante ne hanno ma quante ne hanno di catapulte ma perchè ma perchè hai così tante catapulte ma come fai a fare così tante catapulte eh il tempo che massacra una catapulta raga è che esagerazione vabbè qua continua a farmeli forse non ho disponibile bello non so non so proprio come finire la missione volevo finire la missione ma credo proprio che non ce la faccia no che fai oh ma che ritirati ma che ritirati il problema ecco che arrivano di qua bisogna dai adesso mi distruggono madonna raga madonna mi distruggono tutto mi stanno distruggendo non ho più i capi non ho più niente ma l'altare che cosa serve se non posso eh che cosa mi ha fatto l'altare dammi magari ci sono i miei i idoli qui ma dai ma sono qui ma sono qui erano qui i boss era un'altra roba e non mi diceva dove erano dai che mi stanno massacrando tutto adesso che strada fanno questi qua no mi stanno distruggendo tutto sono un po cattivelli mi stanno distruggendo proprio tutto tutto dove sono i miei boss qua oh mi si perdono i e dove siete si perdono i boss qui i miei dove siete andiamo qui eccoli qua e massacrali su eroi eh niente praticamente bisogna che che devo andare qui a massacrarli in continuo è un burdel i miei roll fanno male però eh devo capire se c'è qualcuno qua comunque amici miei dai l'esperimento stasera di Spearforce l'abbiamo fatto e domani sera invece ci vediamo con il mitico cosa c'è qua qui c'è un'altra base loro guarda che roba brava dai ma che serio ma sono troppo forti questi qua dai c'è questo col carretto è veramente tosto vabbè dai si quattro carretti cinque carretti ma dai ma non è possibile come si fa a vincere questa mappa mi hanno ammazzato tutto ma non ci credo ma non ci credo ma quanti ce n'è dai ce n'è un bordello guarda dove mi sparano se è necessario bisognerà credo ma come è questo possibile morti attacca guarda quanti ce n'è guarda quanti ce n'è guarda quanti ce n'è sono tantissimi loro si curano si creano guarda guarda ma guarda i castelli che fanno loro sono molto molto più avanti di noi a livello proprio sono avanti sono guarda che ci segano tutti guarda altra volta dai non è possibile se oh sconfitta incredibile ragazzi è veramente tosto è veramente tosto esci e torna meno principale quindi marco non sei riuscito a fare neanche la prima missione della campagna va bene dai ragazzi si fa si è fatto tardino bello a me piace un sacco spillforce 3 reforced gioco che è uscito ieri quindi day one day two edition l'ho portato su sul nostro amico twitch ci vediamo domani sera con farming simulator vediamo un po' e poi ci vediamo venerdì con gran turismo 7 quindi ragazzi e ragazze vi aspetto assolutamente sul mio canale per giochi anche inediti poi gran turismo e formula 1 nel weekend grazie di tutto marco drums games channel vi saluta stasera è stato un esperimento con questo gioco fichissimo che poi porterò anche su youtube a sto punto perché ho visto che alla fine non è che piace tantissimo a voi pubblico mio ciao a tutti grazie julie grazie lord grazie ryan grazie grazie a tutti quanti amici miei loki e batman e tutti quelli che sono venuti stasera dai ragazzi il lucas grazie amico mio e tutti tutti quelli che sono intervenuti grazie a jenny a bonac e a fra feste per il follower di oggi ciao amici miei ci vediamo domani sera ore 21 ciao amici buonanotte grazie a tutti 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 Grazie.